Perché nasce e si organizza anche qui a Pescare Area Destra? Area Destra è una componente del Partito Futuro Libertà a livello nazionale, è una componente per lo più composta da giovani che vuole portare all'interno di Futuro Libertà quelle che sono le tematiche storiche della destra sociale. Noi abbiamo una visione del partito prettamente collocato nel centro-destra e vorremmo appunto che in Italia possa aprirsi una nuova stagione di riforme sia economica che istituzionale che portino a un rinnovamento del paese e della sua classe dirigente. Quindi questo rinnovamento lo vogliamo fare su due strade. La prima cosa è cambiare la classe dirigente. Ieri l'onorevole Adolfo Urso a Roma ha lanciato un grande messaggio Change the right, cambiamo la destra, che i quattro leader che nel 1993 fondarono il polo della libertà facciano tutti e quattro un passo indietro per ricomporre un nuovo centro-destra finalmente moderato, riformista e per ridare al paese la possibilità nel 2013 di non rimandare la sinistra al governo. Fare questo significherebbe riportare il paese indietro di 20 anni. Noi vogliamo una nuova destra che vada oltre Silvio Berlusconi, che componga una nuova classe politica e questo si può fare solo attraverso delle primarie che comprendano anche il candidato premier. Aria destra sta lavorando, questa è la sua posizione all'interno del partito e noi crediamo e speriamo che anche la posizione di Gianfranco Fini sia questa. Lui parlerà a Mirabello, ci sarà un grande rilancio del partito, ma noi vediamo futuro libertà all'interno di un nuovo e riformato centro-destra.